Facciamoci le nostre posizioni. Ma che razza le posizioni? L'hanno vista su internet, uguale identica. Angeli Caci di Tarazza e tra chi si è? Se l'hanno fatta l'osso. Però stavolta sai che il maestro vuole grazie? Scusate... No, 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 guardate! Venite qui, se ne facciamo una bella tutti insieme! Scusate! Mi sei mossa di loro. Oh, amore... Ma poi ti ricordo di aspedire agli amici di a lei. Dove è che sta Marecino? Perché ti hai dimenticato? No. Dov'è che non sta Marecino? Carina, bravo! Le facciamo una tutti insieme? Beh, facciamo una... Dove? Perché mettetevi qui. Divante. Qui, facciamo questo. Grazie, amore. Adesso io metto l'autoscatto. Da qua lo premo. Andiamo sul tanto 15 secondi. Mi raccomando, eh! Ok, vai! Leo, che fai? Mi viene con la tua cosa? Dai, Leo, vieni! Dai, Leo! Dai, fai tutto solo, dai! Leo, brigati! Andiamo sul tanto 5 secondi, vai! No, brigati, Leo! No, no, no! Mi amerebbe lo stesso. Mi amerebbe lo stesso. Mi amerebbe lo stesso. E se il posto di chi deve essere... Si, penso di sì. Ehm... E se sull'incendio mi... E se sull'incendio mi... Si si da un incendio totalmente sfigurato. Tu mi amerebbe lo stesso. Amore, E farei molto di più. Ragazzi, la vogliamo fare questa cena per San Valentino? Eh... Si, dai, facciamo, torniamo. Cioè, ancora con San Valentino? Dici così solo perché non è la ragazza. Vi ho già detto a tutti. Ti ricordo che quando sono stata insieme ai miei te, l'ha fatto un intero per ballo e l'ha semblata in condominio. Cosa vuoi fare? Vedendo come ci ha grattato il nato, che poi è il tipico atteggiamento... Eh, dai, perché non ha dimmi che l'altra ragazza fino a venisse la cena con noi? Sì? Ok, la sera è occupata. Deve... Deve... La sera di San Valentino. No, dico, lo capisce che la sta aspettando da sei minuti? E cosa le fa pensare che sia proprio me che sta aspettando? Beh, se non sono una stupida, lo saprò riconoscere un agente immobiliare o no? Senta, sia gentile, me lo fa vedere un altro appartamento. Guardi, sono già le quattro venti, alle cinque vorrei entrare all'asile, alle sei vedo un altro appartamento, alle sette ho un incontro di lavoro e alle otto sono in palestra. E qui, lei capisce che non sento da perdere? Ma lei pensa veramente che in questo paese alle cinque l'asile si è aperta? Sì? Perchè, che c'è? Vedi, l'appartamento è molto alto, non in modo, non ci sono problemi, perciò visto che sei interessata, pensavo che stasera potremmo festeggiare con una bella cena sul terrazzo. Ho entrata, non ho ancora visto nulla. Meglio, ma che mostrarti? Certo che quei agenti immobiliari siete del grande Giovanni, io ho preferito portare una cliente a cena. Però, qua, tutti la chiamano la mamma, perché... Cioè, povera donna... Cioè, pitta... Quando è che lascio l'appartamento? Leo, guarda che se non ti brighi a fuggire... Ho avuto una vendita in nuda proprietà. No, dopo aver perso il figlio, lei... In un paio di settimane, l'appartamento si rivelerà. Che storia triste... Comunque non lo so, mi sono indecita... L'azzo, cara, arrivo... Mi sono stata carina... Sole... Piacere... La mamma... Ah, ah, sì, l'ho saputo. Piacere, io sono serena. Complimenti per la sua casa. Grazie, molto gentile. Perché c'è un problema, però, eh. Qui la doccia è sempre intasata, vero Ciccio? Su, avanti. Fila, vai a pulire la doccia. Vai. Per finirla, valla, mi spingi un'ora. Fila! Cosa fai lì? Dai! Signora, lei non si deve... Non si deve... Vai a pulire la doccia! Quali tanto bisogna secondarla, però... Signora Sole, innanzitutto devo dire che mi dispiace molto questo figlio. Beh, non a me. Senti, Serena, adesso che siamo qui da sole... Io vorrei farti una domanda, però tu rispondimi sinceramente. Sei sicura di essere proprio interessata? Beh, perché negarlo? Sì, mi piace molto. Davvero? Non l'avrei mai detto. Beh, effettivamente un dubbio ce l'avrei. Ah, ecco. Forse è un tantino troppo grande per me. Grande? Nel senso di... De voluminoso? Eh, esatto. Sì. E sicuro lo prenderei soltanto per me. Ho avuto già delle pessime esperienze in condivisione. Ah! Quindi tutti insieme appassionatamente non funziona! Ad essere sincera, visto che la proprietà è la sua, io mi sento un po' in colpa che sono pronta. Nenietto! Oh, no! Non ti preoccupare, cara, per carità. Tu sapessi da... Degna di essere... Un bel brindisi a Laura e Davide e al loro amore... Eterno! E un brindisi a Carlo Appendino. Ma è impazzito! Sì, ma perdono. Ho avuto sempre una vita molto appenissima. Ah! Io non sono capace di dire bugia. Ecco, non faccio neanche quando sono. Mi hai inventato una storia. Rapporto a qui ti hai visto? Fallo per lei. Io odio. Fallo per lei. E anche di cosa? Fallo per lei. Sole! Tu non puoi immaginare la gioia che le daresti nel farle bere il proprio figlio a casato, anche se solo per una sera. Come c'è? Ma la ne ho orto? Se non ho detto che il sole non ha neanche i giorni contatti. Vedo? E il giugno. Scusa, ma per caso lei ha detto qualcosa che ha detto di me? Poi ho visto dalla scioluta la poppa che si voleva per non so quanti metri. Finché poi c'è la nave che è in avvistata da Lucena con centinaia di passaggiari. Scusa, fammi capire. Tu e Leo si sono conosciuti in crociera su una nave che si è in avvistata dopo averci avuto sbattere con un iceberg. Capanello, quadrio. Cosino per dire Massimo. Mai allora Leo è per fortuna qui tra noi e non è sepolso nell'atlantico. e sono molto migliorato e io non mi muoto, eh? Pazzesco. Sembra la scura di Titanic, eh? Ecco. Scriviti. Ecco.